Ciao a tutti, sono Diego, se questo è lo shop del 10 gennaio 2022 di Fortnite, abbiamo squadra speciale Triceratopo Oscura, questa skin, che ha un nome lunghissimo, col suo dorso decorativo. Ho il Rex Oscuro, versione maschile della skin, le ossa di Dinosauro Oscuro, centauro estremo, Ugo, bellino Ugo, molto acrobatica. Colteglia Farfalla, Versa, con suo dorso decorativo, Bracer, il balletto Fischer, Questo, uccettoso, è ai vostri posti. Via! Poi, le skin personalizzabili, eccole qua. I vari bundle, leggende ghiacciate, questo qua col mila ghiacciato, incursore del permafrost, il cristallo di ghiaccio. Pacchetto 0 assoluto, che per 12 euro ci dà anche i VBAC. E poi tutti gli altri che abbiamo già visto e stravisto. Bene ragazzi, ciao a tutti, mi raccomando iscrivetevi al canale e venitemi a trovare il live. Ciao ciao!